In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, in collaborazione con l'azienda farmaceutica Janssen, lancia il primo libro bianco sulla salute mentale in Italia, che verrà portato all'attenzione delle istituzioni delle principali regioni italiane. Il libro si aggiunge al manifesto Uscire dall'ombra della depressione, per stimolare le istituzioni con l'obiettivo di potenziare gli investimenti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e arrivare ad avere nel nostro paese un piano nazionale di lotta alla depressione. Lo stato dell'arte della depressione riguarda oltre 320 milioni nel mondo, più di 3 milioni in Italia. Purtroppo a tutt'oggi solamente un milione di persone viene trattato. Questo apre un problema centrale che è quello di sensibilizzare le persone, di fare un confronto con una patologia che è la prima per disabilità in Europa e che sta crescendo con una rapidità di oltre il 18.4% nel giro di 10 anni. È necessario fare campagne informative, aumentare anche la conoscenza dei sanitari su questo tipo di patologia, renderli più sensibili, fare in modo che sparisca quello stigma che è portato proprio dalla non conoscenza di questo tipo di patologia all'interno della società. Oggi abbiamo visto tutta la drammaticità che è legata a questo tipo di problematiche. Io credo che sia importante, come abbiamo detto oggi, lavorare tutti insieme. Ognuno deve giocare il suo ruolo. Il nostro ruolo è prima di tutto fare la ricerca e mettere a disposizione dei malati delle soluzioni nuove, innovative che possano in qualche modo alleviare le loro problematiche. Da sempre Ian se ne è impegnata in questo e vuole continuare. È un settore difficile dove molti abbandonano la ricerca, noi non lo vogliamo fare perché è nella nostra DNA, soprattutto la salute mentale, è quella che ci ha consentito di nascere e di aiutare molte persone nel mondo e quindi se qualcuno lo deve fare noi ci siamo.